Insomma i bambini con la loro espressione, per esempio è entrato uno al ristorante l'altro giorno come è uscito il cameriere Cameriere, cameriere, se il mio babbo era un leone e mia mamma era una leonesa, io che cosa nascevo? E il cameriere, nascevo un leoncino bellino, piccolino, grazie Dopo 5 minuti riesce il cameriere, cameriere, se il mio babbo era una caffalletta e mia mamma era una caffalletta, io che cosa nascevo? Nascere una caffalletta, sacamente conca, mi ticcheda, va bene, grazie Dopo 5 minuti, cameriere, se il mio babbo era un pistillone e mia mamma era un pistillone, io che cosa nasce? Nascere un pistillone, mi ticcheda, basta però che devo lavorare Dopo 5 minuti riesce il cameriere, cameriere, oh no no, se il tuo babbo era un cornuto E se il tuo mamma era una prostituta, tu che cosa nasce? E il bambino, cameriere Brate